Eccolo qui, mantengo le promesse no? Oggi ti faccio un bel regalo a te che mi segui e che hai a cuore la crescita del mio canale e visto che siamo in un momento storico per me e per il mio canale veramente stupendo andiamo a guardare assieme cosa intendo per regalo, non scappare via. La scorsa settimana ho fatto questo video che sinceramente mi ha dato soddisfazione scrivere e registrare. Spero si veda dalla mia faccia di... K... O. Dopo quel video avevo lanciato questo sondaggio in cui chiedevo quale approfondimento volevate e siccome stavo preparando un bel pdf per gli iscritti di Patreon ho pensato ma perché non prendere Two Birds with a Stone? Ed eccomi qui ad illustrare la mia analisi su Public Storage che vi regalo in formato pdf che potete leggervi comodamente a casa vostra quando volete. Infatti potete scaricarla gratuitamente scrivendola al mio Patreon, dal link in descrizione. Ando a pubblicare analisi ogni due settimane circa, per cui un paio al mese, ma quelle non saranno in regalo, quelle successive intendo. Ho chiesto se potevo pagare la mia bolletta della luce col regalo e mi hanno detto probabilmente no. Ovviamente questo non vuol dire che non faccio più video analisi sul canale, che comunque sono già rare, ma che il formato pdf più approfondito sarà la pubblicazione riservata. Per cui vediamo in sintesi cosa questa analisi dice e poi lascio a te di andare ad approfondire quello che ho scritto più nel dettaglio. Ed eccoci qui, vediamo subito quello di cui è composta questa analisi. Ovviamente non ve la faccio vedere tutta come dicevo prima, perché altrimenti che ve la faccio scaricare a fare? Sì, vabbè, ci sta che uno dice la vedo e poi me la scarico così me la tengo nel cassetto, ma io vorrei che invece ve la studiaste voi in maniera tale che possiate anche capire quello che ho fatto, quali sono i ragionamenti, quali sono le dinamiche che ho messo all'interno di questa analisi. E oltretutto, se avete consigli per migliorare le analisi successive, lasciatemi un commento qui sotto che lo gradirei volentieri. So che alla fine molti di voi vorrebbero anche il fair price, che non è nell'analisi, perché questo tipo di informazioni li pubblico, li andrò a pubblicare sul Patreon come Excel, come spreadsheet in cui vado a indicare fair price per diverse aziende che seguo e che sono nelle mie watchlist. Per cui nelle watchlist che andrò a pubblicare mie personali su ETF, REITs e così via, ci saranno anche i fair price secondo il mio parere, per cui non è legge e per cui non copiatemi per quanto riguarda i vostri ingressi in queste aziende solo perché guardate il mio fair price. Passiamo dalla copertina che spero che vi piaccia perché, insomma, ci ho messo un po'. Passiamo subito all'analisi di PSA. Partiamo dall'indice che per molti non è importante, ma per me lo è perché vi vado anche a dire quello che ho analizzato in questo PDF. Prima di tutto un disclaimer, che è d'obbligo in queste situazioni, una panoramica sull'azienda, su quello che fa, su quelli che sono i suoi dettagli, una buona fetta dell'analisi sull'industria di riferimento, per cui quali sono i parametri per valutare questa industria e anche le successive analisi che andrò a pubblicare conterranno una parte corposa da questo punto di vista di questo argomento. Poi un'analisi sui competitors, per cui quali sono i competitors e perché bisogna preoccuparsi di alcuni rispetto ad altri. I risultati operativi dell'azienda negli ultimi 10 anni che sono passati fino al 2022. I fattori positivi dell'azienda o del comparto, in questo caso del safe storage. I fattori negativi. Quali sono gli investimenti che l'azienda ha planificato nel passato e nel futuro. Qual è la storia del suo dividendo, se conviene tenerla in considerazione. E poi la biografia che ho utilizzato per stendere appunto questa analisi. Partiamo dal disclaimer, che vi leggo perché voglio che lo sappiate, così compare anche in questo video. La presente analisi non costituisce parte di una consulenza finanziaria e non è né consiglio a investire nell'azienda analizzata né tantomeno un consiglio a investire in generale. L'analisi che ho fatto, come dice qui il disclaimer, l'ho fatto con dati che sono di dominio pubblico, ma anche su opinioni personali mie, per cui non devono essere considerati immuni da errori o da omissioni, volute o non volute. Come tale non posso essere considerato in alcun modo responsabile per investimenti che facciate voi errati su questa azienda solo perché avete letto questa analisi. Mi sembra, insomma, una cosa abbastanza basica ma che è opportuno ribadire. Parliamo dell'azienda. Public Storage, membro del S&P 500 e del Financial Times Global 500, che è una società a investimento immobiliare, per cui un RIT che principalmente acquisisce, sviluppa e possiede e giustisce strutture di safe storage. Ha la sede a Glendale, in California, e occupa 5.900 dipendenti. Ha due segmenti, ovviamente non vi dico tutto, non vi leggo tutto, se no non ve la leggete voi. Ha due segmenti, operazioni di safe storage e operazioni accessorie. Le operazioni di safe storage includono operazioni di affitto aggregate sulle strutture di safe storage che sono possedute, che includono strutture stesse, strutture che vengono acquisite, sviluppate o estese, nonché altre strutture non uguali a quelle già esistenti. E poi il segmento di accessori compende le operazioni aggregate e dei segmenti operativi di reinsurance dei locatori, vendita di merci e gestione di proprietà di terzi. In questo momento l'azienda possiede 2.888 strutture in 40 stati degli Stati Uniti d'America, su 206 milioni di IPT quadri netti affittabili e una quota di common equity anche del 35% di un'altra azienda che si chiama Sugar Safe Storage Limited, che è una società europea quotata a Bruxelles, che anche questa è un RIT. Guardiamo un attimo in sintesi le due pagine dell'industria di riferimento. Il safe storage è cresciuto fino a superare 1.7.000.000 di piedi quadrati di spazio nel 2023, per cui un mercato molto ampio. Negli ultimi 5 anni sono stati costruiti 257.2 milioni di piedi quadrati di spazio per lo stoccaggio, equivalente a 14.8% dell'inventario totale. Solo nell'anno che è appena passato, nel 2022, sono stati completati quasi 41 milioni di piedi quadrati, locabile, che è un'area che copierebbe più nel Central Park di New York, che insomma non è piccolina. Nell'anno che si sta concludendo, nel 2023, sono previsti circa 52.9 milioni di piedi quadrati di nuovo spazio di safe storage da completare negli Stati Uniti. Ovviamente questo è il mercato di riferimento, non è public storage, è tutto il mercato. Nel primo trimestre del 2023, questo comparto ha registrato un caro dopo aver raggiunto i livelli record del 2022. Questo è attribuito a numerosi fattori, tra cui una decelerazione della crescita degli affitti e nell'occupazione. Ma qual è il contesto delle safe storage? Il contesto è che nell'economia in crescita, per cui quella statunitense è in crescita da parecchi anni, i consumatori acquistando più beni hanno bisogno di più spazio, il che porta a necessità di spazio di stoccaggio aggiuntivo e in tempi economici difficili invece questi, che hanno possibilità di stoccare della merce, tendono a ridimensionare i loro appartamenti, quelli in cui vanno a vivere e per cui hanno bisogno comunque di spazi di stoccaggio. Ecco perché questo settore è resiliente, perché in tutte e due le dinamiche economiche notoriamente o comunque storicamente ha sempre dato dei vantaggi a tutte e due le dimensioni. Pur avendo questa fermata nel primo trimestre, comunque questo non ostacola l'offerta, perché in questo momento negli Stati Uniti sono in fase di sviluppo altre 4750 proprietà di safe storage in costruzione. Questo va a rappresentare il 3.6% della pipeline totale dell'inventario esistente. Questo è provocato anche dalla mancanza di spazio nelle grandi città, infatti i self storage sono notoriamente più presenti nelle grosse città, nelle metropoli. Infatti due esempi che porto qui sono New York e Los Angeles. A New York un apportamento con un locale medio di 80 metri quadri, mentre a Los Angeles è di 73 metri quadri e gli americani sappiamo tutti che piacciono le case belle grandi, per cui la mancanza di spazio negli appartamenti spinge molti residenti ad andare ad affittare del safe storage. C'è anche un dato che riporto nell'analisi riguardo alle ricerche che le persone fanno su internet per la ricerca del safe storage. La maggior parte delle persone cerca New York, Chicago e Houston. E li porto anche i dati appunto di quelle che sono il numero delle ricerche su base mensile in media. Come vediamo in New York 22.510 ricerche medie di persone che vanno a cercare posti in cui andare a posare le proprie cose. In termini di come questo safe storage viene utilizzato lo vediamo nella figura 1. Il 34% viene utilizzato per metterci mobili, non c'è spazio per mettere i mobili, magari le case vengono diminuite di dimensioni perché la gente o non può permettersele o ha bisogno di spazi più piccoli. Poi c'è un 22% per il vestiario, un altro 20% in elettrodomestici, un 10% per attrezzatore di spod o di hobbistica, un altro 7% per rmv per cui recreational vehicle sarebbero i camper o i camper van e le barche, un 5% per business perché nell'analisi vi vado anche a scrivere quello che è la parte utilizzata dal business, cioè le aziende che sono nate nel periodo pandemico hanno avuto bisogno di più spazio per gestire i loro prodotti ma non potendo uscire di casa e quindi non potendo fare vendita diretta col pubblico utilizzavano i self storage per immagazzinare la merce in eccesso oppure per immagazzinare la merce perché si creava un'attività in proprio. I maggiori competitors li abbiamo visti nel video che vi lascio da qualche parte qui se nello schermo, anzi ve l'ho detto all'inizio del video ve lo lascio lì, sono qui 5 ma in realtà c'è anche un altro competitors che non è un self storage REIT ma si occupa di altro. Perché ci si butta sul self storage anche se non si è parte di quel mercato? Perché per quanto riguarda la ricerca 29.8 miliardi di dollari del 2022 sono il mercato di spazio di self storage di cui la gente ha bisogno e guardando al futuro si può vedere che il mercato raggiungerà i 32.9 miliardi di dollari entro il 2028 registrando un CAGR per cui un tasso di crescita annuale del 2.17% nel periodo che fa dal 2023 a fine di quest'anno quindi e il 2028. Attualmente il 10% del mercato è di public storage, il 13% è di EXR che abbiamo visto aveva solo un 8.8% del mercato ma che si è unita in un merge alla pari con LSE live storage creando appunto un'azienda che è il 13% del mercato. CubeSmart ha il 4%, National Storage Affiliates ha il 2% e Howl che è l'azienda che è non si occupa di REIT ha un alto 4%. Il 67% di tutto il mercato è occupato da altre aziende questo vuol dire che le grandi aziende PSA, EXR, Cube hanno un enorme spazio di crescita se cominciano a fare una raccolta di clienti e per cui hanno bisogno di ulteriori proprietà magari inglobando altre aziende e dallo studio si vede che molte delle grosse aziende tendono più ad acquistare competitors piuttosto che a spendere soldi nel creare nuove attività e nuovi spazi nelle aree metropolitane e quindi possiamo vedere che i primi 5 REIT occupano il 29.7% di mercato mentre le prime 5 aziende per cui 4 REIT più Howl vanno a occupare più meno del 30-31% del mercato totale del self storage. Poi abbiamo un risultato negli ultimi 10 anni possiamo vedere qui in questa tabella come i dati di fatturazione sono sempre stati in crescita così come la crescita del fatturato in termini percentuali. Public Storage in particolare ha sempre avuto una crescita del fatturato in positivo anche durante il periodo pandemico e nell'ultimo anno anzi negli ultimi due anni 2021 e 2022 ha avuto una crescita importantissima 2021 17.18% e 2022 22.43% per cui dobbiamo vedere come si chiuderà il 2023. Poi nelle ultime parti vado a vedere quali i fattori positivi del mercato perché il self storage è storicamente resiliente qual è la domanda dei clienti basata e perché su esigenze reali e anche perché il self storage è un'alternativa a basso costo rispetto all'edilizia abitativa. Anche quali sono i maggiori punti in ambito tecnologico che fanno crescere questo mercato e andiamo ad analizzare tutti. Quali sono i fattori negativi? La possibile saturazione del mercato, la vulnerabilità nei periodi di declino economico e i costi di manutenzione e riparazione. E infine sia quali sono gli investimenti pianificati da parte dell'azienda PSA e qual è il suo dividendo e qual è anche la campagna di buyback che l'azienda è andata a fare se il dividendo è sostenibile. Perché nel 2022 è stato il dividendo più elevato rispetto al 2023 e qual è il vero yield dell'azienda che non è quello del 2022 e così via. E infine la bibliografia c'è tutto quello che ho utilizzato per andare a redigere questa analisi. Vero di vederti parte della famiglia di Patreon. Lì da ora in poi troverai contenuti come questi con cadenza più o meno quindicinale che possono essere sia analisi pdf sia analisi video dedicati per te che mi supporti con una colazione al mese. Ti aspetto lì. Sostieni il mio lavoro. Nel frattempo che ci pensi un buon video di approfondimento te lo lascio qui al lato e nel quale andavo a parlare proprio del settore del self storage dove comparavo appunto i 5 player principali quotati sul mercato americano. Mi raccomando iscriviti e lascia un bel pollice in su ed entra a far parte di questa bella famiglia community. Al prossimo video.